Ma fare il sindaco è un visto di famiglia? Se guardo nella mia famiglia credo che sì. Sì, perché il nonno Giovanni fu sindaco di San Vito di Cadore per tre mandati a cavallo degli anni 50 e poi lo fu lo zio Simon per altri tre mandati. Il loro cognome era del favero Foro, famiglia a cui Debon appartiene attraverso la mamma. Lui che già fu sindaco una prima volta due legislature fa, perdendo poi di soli 30 voti le elezioni successive per vincere nuovamente con oltre l'80% nelle ultime consultazioni, con la curiosità che così come accadde anche nel primo caso, a precederlo è stato un commissario. Per Debon, san vitese nel cuore e nell'animo, ma da sempre residente a Belluno, i progetti per il prossimo lustro sono tanti. C'è una situazione difficile, il commissariamento che andava avanti da oltre un anno e quindi mi ha chiesto se potevo guidare questa nuova squadra. Questa seconda volta da sindaco vorrebbe riuscire a fare che cosa per San Vito? Vorrebbe fare le tre cose che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale. Completare a Salgarina per dare degli alloggi a personale strategico che viene da fuori, che non troverebbe sul mercato libero residenza. Vorrebbe rendere più attrattivo il centro nel momento in cui fra poco di più di un anno verrà aperta la variante di San Vito e vorrebbe risolevare, vorrebbe mettere a posto anche la zona periferica di San Vito che però è collegata al centro, che è il lago di Mosigo, che è diventata un'attrazione molto importante e vuoi anche per il film che si sta girando. Le Olimpiadi sono importanti per San Vito o sono indifferenti? Sono assolutamente importanti perché consentiranno al nostro territorio di avere quelli migliori e che tutti ci aspettiamo, soprattutto in termini infrastrutturali.